Tutto sommato ci sembra che queste due settimane sono state, per chi ha partecipato, delle settimane molto dense e penso molto proficue, molto utili. E questo è tutto, grazie per averci seguito. La prossima ti dà quel senso materico, di luci, di contrasti. Secondo me, se uno vuole fare una cosa veramente seria oppure puntare molto sulla fotografia, io preferisco la pellicola. Ci sembra che sia venuto fuori un bel lavoro, oltre che da un punto di vista visivo, anche didatticamente siamo molto soddisfatti perché abbiamo imparato questa tecnica, questa miscela che secondo noi è la cosa vincente. Però comunque l'intensità delle giornate secondo me va bene. Cioè non è la plastilina schiava del personaggio, ma è il personaggio schiavo della plastilina. No, ma ci fai! 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 Grazie a tutti